amadeus volt ben pensieri per una vita serena a cura di vitaliano bilotta edizioni mediterranee la legge di gradualità nel grandioso piano divino della vita infinita ognuno ha un posto rispetto agli altri ma ognuno ha per primo compito quello di migliorare se stesso il cammino in questo meraviglioso divenire è diviso a tappe con ritmi per ciascuno diversi alternati da periodi di riposo e secondo la legge di gradualità che è fondamento nell'evoluzione di tutto ciò che vive tutto il succo degli insegnamenti bisogna saper estrarre dai fatti che ci accadono tutto il succo degli insegnamenti che essi contengono le esperienze non utilizzate si dovranno ripetere una frase comunemente ripetuta è far tesoro delle esperienze attrazione inconscia è un fatto accertato che esiste un'attrazione inconscia fra persone che hanno delle affinità fra loro coloro che si interessano a un dato problema si trovano a collegarsi e ad avvicinarsi per un movimento inconsapevole e misterioso il fluido attrattivo è il pensiero che collega con la sua forza radiante è un'attrazione